Criticoni, criticone, e benvenuti in questo nuovo video. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono iscritti, che hanno lasciato mi piace, anche quelli che hanno lasciato non mi piace, tutti coloro che hanno commentato, e anche coloro che hanno visualizzato. Sono arrivato già, cioè nell'ultimo video ho raggiunto più di 150 visualizzazioni, che comunque per me è già tanto, e mi fa molto piacere. Comunque iniziamo con l'argomento di oggi. Bazzicando su YouTube ho visto, cioè ho sentito diciamo, che è da tempo che esistono petizioni che vogliono far chiudere il canale di Chiara d'Alessandro, e sempre più persone stanno segnalando. Io in primis ogni tanto qualche video l'ho segnalato perché non l'ho trovato, diciamo, consono alla community di YouTube, soprattutto perché non ha neanche il filtro vietato ai minori di 18. e sembrerebbe che in questo ultimo periodo, almeno secondo qualcuno, qualcosa si stia muovendo, che in realtà stia succedendo qualcosa nel canale di Chiara d'Alessandro, che le sia arrivato almeno un'email, diciamo, di avvertimento di Google, se non un ultimatum di smetterla. Questo potrebbe anche spiegare come mai molte uscite dell'ultimo periodo, soprattutto quelle più volgari, mi riferisco soprattutto alla live dell'altra sera. Per chi non l'ha presente, non l'ha vista, può andare nel mio precedente video, nei commenti ho lasciato il link della live cancellata, fermo restando che l'Ada d'Alessandro non abbia chiuso quel canale, perché aveva detto che, chiunque, come fa con tutti, chiunque ricarica spezzoni della sua live, delle sue live, li butta giù il canale. Ma ci sono stato ricaricato anche in altri canali, quindi comunque se non lo trovate là, scrivetemi nei commenti che cerco di recuperarvelo in qualche modo. E comunque sembrerebbe che per questo motivo, che nell'ultimo periodo le live e soprattutto le sclerate le abbia fatte sul canale di Chiara e Davide, cioè sul loro canale di coppia. Un altro motivo per cui potrebbe averlo fatto è anche perché il canale di Davide è molto meno remunerativo rispetto a quello di Chiara, perché se è almeno Chiara, è vero, le sue visualizzazioni, ho notato che da quando ha tolto i commenti sono dimezzate, tipo, e gli iscritti non sono diminuiti e nemmeno, devo dire più di tanto, i like e dislike, però le visualizzazioni sono, tipo, dimezzate, probabilmente perché le persone non possono più commentare e perché molti erano lì solo per i commenti alla fine dei conti e soprattutto poi questo calo c'è stato ancora di più nel canale di coppia, dove, vabbè, lì veramente erano solo per commentare le persone e leggere i commenti, anche perché Davide veramente porta contenuti, va detto, zero, se non quelli di sua moglie ogni tanto. Perché aveva comunque ammesso che, nonostante tutto, Chiara d'Alessandro ha un suo pubblico, minimo magari, ma ha un suo pubblico, mentre secondo me Davide non è un suo, cioè, l'unico pubblico che ha sono gli iscritti che sono iscritti a Chiara, cioè, non ha nessuno fuori da i fan di Chiara o gli haters di Chiara che lo segua, cioè, non credo che ci sia qualcuno, per esempio, che sia affezionato a Davide e non a Chiara, e questo quindi mi fa presumere che tutto ciò stia succedendo sul canale di Davide per questo motivo, e non per fare brutte supposizioni, però inizio a pensare che forse un minimamente qualcuno ha ragione a dire che la storia del moderatore fantasma potrebbe essere solo, cioè, è stata architettata da Chiara, anche se mi chiedo come ha fatto Davide a non accorgersene avendola nella stessa stanza, a meno che Davide, vabbè, a sua volta non sia d'accordo con lei. Anche perché la domaniera, che in questo caso la cito, ha fatto vedere come si può vedere, cioè, come si può togliere i moderatori, l'avevo già detto in un altro video, e, vabbè, chiunque voglia si vada a iscrivere nel canale della domaniera, e soprattutto vada a vedere questo video e così capisce che cosa intendo. Perché Chiara si era inventato praticamente che il moderatore continuava a cambiare nick, ma può cambiare nick quanto vuole, ma una volta che tu hai rimasso tutti i moderatori, non ci può essere questo hacker fantasma o moderatore fantasma, vabbè. Anche perché non penso che una persona con delle competenze di hackeraggio sofisticate, perché ci vogliono comunque competenze, penso, minimamente sofisticate, per hackerare un sistema come YouTube, non stiamo parlando di un PC di casa che magari basterrebbe qualche corso, poi non lo so, io non sono un esperto, però magari per riuscire ad hackerare il PC di una persona, tipo un PowerPoint, non è proprio come hackerare YouTube, perché YouTube è una piattaforma, è un po' come se uno volesse hackerare il sito bancario, cioè, il sito bancario, sì, il sito di una banca, è molto difficile. E francamente una persona capace di fare una cosa del genere penso che vada ad hackerare appunto una banca o l'agenzia delle entrate o che ne so, però non il canale di Chiara. Inoltre, se comunque non è stata lei, io penso sempre di più che sia stata una persona completamente esterna ai canali di scuola, una persona che semplicemente si è divertita a farle questo scherzo per vederla sclerare. E non so, quindi, mi sembra di dare appunto magari delle accuse che sono infondate, certamente, cioè, infondate su una parte, però questo caso era successo cinque anni fa sul canale di Chiara Adressandro, sempre nello stesso modo, cioè, ha solo minimamente cambiato il tutto. E queste sono, boh, grandi domande. Comunque, il video finisce qua, anche perché, se no, caricarlo dopo ci vuole un'ora. Ringrazio, appunto, ancora tutti coloro che mi seguono, che mi seguiranno, e un saluto a tutti e ci vediamo al nuovo video. Ciao!